Ciao amici benvenuti tutti in questo nuovo video, io sono Andrea Lanciotti il vostro tecnico digitale e oggi vedendo un commento che mi è stato fatto l'altro giorno vi voglio far vedere come si apre lo sportellino di dietro del telecomando sia di SkyQ che del vecchio MySky che non solo attraverso i commenti ma anche attraverso i miei clienti mi dicono sempre Andrea come si fa ad aprire che non ce la faccio, devo cambiare le pile come si fa, come si cambia alcuni ci riescono tranquillamente, altri non lo sanno, non riescono a farlo ve lo spiega il tecnico digitale quindi iniziamo e vi faccio vedere vai! Allora, primo telecomando il primo telecomando, questo è il telecomando ovviamente quello vecchio del MySky vedete anche questo ha avuto i suoi tempi migliori e vi faccio vedere come si apre, è molto semplice avete questa linguetta, tirate indietro la linguetta e la alzate eccolo qua e qui avete le pile che potete sostituire mi raccomando il verso più e meno perché ho visto volte con pile lo stesso verso pile invertite e via discorrendo quindi state attenti al verso delle pile perché altrimenti il telecomando non funziona per richiuderlo mettete qui tac premete e avete fatto qui tirate la levetta è un po' durina però la tirate e alzate e il gioco è fatto questo è il telecomando del MySky adesso prendiamo quello di SkyQ allora questo è il telecomando di SkyQ ma tanto voi lo vedete ci sono diversi tipi ma la forma è sempre la stessa cambia solo i tasti qui c'è il tasto blu ma è totalmente uguale quindi adesso noi lo giriamo basta premere in giù ecco qua molto semplice ancora più semplice del MySky quindi voi che fate prendete il telecomando lo girate ecco per rimetterlo basta un leggero tocco e anche un leggero tocco verso il basso e aprite il telecomando levate le pile mi raccomando sempre il verso attaccate e a posto questo mettete così e avete fatto ok tutorial finito molto semplice veloce vi ho spiegato come fare quindi per questo video è tutto mi raccomando lascia un like iscriviti al canale e ci vediamo ai prossimi video ciao a tutti da Andrea Lanciotti il vostro tecnico digitale ah aspetta aspetta se hai bisogno di qualche altro tutorial che non riesci a fare come ad esempio aprire lo sportello del telecomando mi raccomando scrivelo sui commenti ok ciao a tutti da Andrea Lanciotti il vostro tecnico digitale ciao ciao